ciao ragazzi oggi andremo a scoprire i cinque compagni di allenamento da evitare assolutamente vediamo il chiacchierone è il tipico ciclista che sin dal ritrovo di partenza inizia a parlare parla parla senza mai smettere il super competitivo è quello che appena esce di casa è pronto a sfidarti è sempre a caccia del segmento e darà l'anima per avere il record come imbocchi la salita ti scatta in faccia anche oggi come stai sempre a inseguire cavolo sì ma te si strava meno il succhi a ruote è un approfittatore seriale ti segue ovunque e quando dico ovunque è davvero ovunque ruotino man è uno tra i ciclisti più fastidiosi puoi andare forte puoi andare piano con qualsiasi mezzo lui sarà sempre una mezza ruota davanti a te il coniugato deve essere a casa in assoluto orario non può sgarrare di un minuto pena l'ira della moglie il sequestro della bici l'addio alle pedalate per sempre forse abbiamo un po' esagerato ma la cosa importante è uscire in bici e divertirsi ciao e alla prossima ciao 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 Grazie a tutti.